Allora, Eligo è una tech company focalizzata nella creazione di esperienze immersive online. Lo facciamo attraverso un marketplace, siamo partiti dal settore dell'abbigliamento, che abilita una community di esperti venditori di prodotto, li chiamiamo personal stylist, è una infrastruttura tecnologica integrata. Stiamo sviluppando un canale di vendita innovativo di cosiddetto live commerce che consente a un esperto venditore in tempo reale di vendere da remoto su un sito di commerce a uno o più clienti. Siamo focalizzati in abbigliamento e abbiamo anche dei brand proprietari, Masel Milano e Melting Pot, che stiamo riposizionando e rilanciando, oltre a 50 brand di terzi distribuiti in piattaforma. Il 2022 è stato un anno di transizione commerciale e tecnologica, è stato un anno importante per il gruppo, in quanto ha messo a terra l'integrazione delle acquisizioni fatte nel 2021, a fine 2021, appunto Masel Milano e Melting Pot, ed è stato un anno molto complicato per il sistema dell'economia e della finanza a livello internazionale. In quest'anno siamo cresciuti col valore della produzione a oltre 2 milioni e 100, ma se prendiamo non a livello consolidato, ma solo la società capogruppo, quindi senza le società controllate, la società Eligo Spa è cresciuta di oltre il 169% anno su anno. Abbiamo chiuso oltre 3 milioni di euro di aumenti di capitale, sia attraverso la conversione di strumenti finanziari partecipativi, di cassa depositi e prestiti Venture Capital o di Mazal Fashion, e anche abbiamo visto l'ingresso nel capitale di partner industriali, quali la Janelle Shoes, leader nella produzione di calzature di alta qualità per marchi del lusso globali. Questo ci ha consentito di migliorare di oltre un milione e mezzo la posizione finanziaria netta, l'indebitamento netto della società, a quota 230 mila euro circa, e a chiudere con un patrimonio netto superiore a 2 milioni e 3. Sicuramente continuare a investire nelle nuove funzionalità di Eligo Live Shopping Assistance e quindi rendere l'esperienza per il cliente sempre più immersiva, dare sempre più analytics importanti ai brand distribuiti attraverso questo canale di vendita e dare opportunità di vendita, di aumentare le performance dei nostri esperti di prodotto che si iscrivono nella nostra community. Aumentare il numero di brand in piattaforma e il numero di esperti venditori, l'internazionalizzazione anche attraverso l'utilizzo di bandi e fondi specifici per l'internazionalizzazione di PMI e PMI innovative italiane. Vogliamo anche focalizzarci nel sviluppo dei due brand che abbiamo acquisito l'anno scorso, quindi Masel Milano e Melting Pot, in quanto abbiamo superato, è stato un anno di riposizionamento, di ribranding, di lavoro sui nuovi prodotti, le nuove capsule di integrazione tecnologica. Da quest'anno, dal 2023, saremo pronti invece per le vendite di questi due brand riposizionati. Infine, l'altra strategia che vogliamo adottare quest'anno è completare l'aumento di capitale che è stato approvato l'anno scorso in assemblea al fine di arrivare gradualmente a un accesso ai mercati finanziari, quindi con l'ingresso di investitori sempre più professionali e istituzionali nella nostra compagina azionaria. Grazie a tutti!